Buongiorno! Stiamo partendo, quindi questo è il vlog di Roma. Grazie a tutti! Buongiorno a Roma! Buongiorno a Roma! Buongiorno! Oggi vi faccio il Roma Room Tour perché ci vuole, voglio dire. E adesso vi faccio vedere. Quella attrazione è la cosa più bella, guardate, a parte che guarda di sfatto, vabbè. È gigante ed è comodissima, è una finestrone. Qua c'è il casino più totale. Allora, il bagno room tour. Un lori. La docina. Allora ci prepariamo, ci vestiamo e andiamo. Allora. 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 Grazie a tutti.